ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo nuovissimo video sul canale oggi ragazzi sono in compagnia di andrea ciao allora ragazzi quest'oggi abbiamo deciso di giocare a supermarket together in multiplayer è già da un bel po' di tempo ragazzi che abbiamo adocchiato questo video non so se state vedendo un pochettino di roba che sta piovendo come se non ci fosse un domani ma abbiamo fatto un mega ordine comunque stavo dicendo avevamo adocchiato questo gioco già da un bel po' di mesetti più o meno mi sembra di sì eh sì sono praticamente ragazzi un bel po' di mesi che stiamo giocando a questo supermarket together anche perché comunque ci abbiamo fatto un pochettino di live su su tiktok e visto è considerato che da quello che ho capito dovrebbe essere un gioco di tendenza e quindi ragazzi oggi appunto abbiamo deciso di giocare a supermarket together nel frattempo ragazzi nel frattempo noi stiamo iniziando a portare dentro tutta quanta la roba oddio allora sì 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 vai 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 tutti quanti a raccogliere robe allora a parte il fatto che a parte il fatto ragazzi che comunque sia andrea ci ha giocato stamattina e quindi ha assunto praticamente una decina di persone per il nostro supermarket quindi come potete ben notare abbiamo dieci persone più o meno dieci persone che poi tra me e lui arriviamo più o meno a dodici per comunque andare avanti a portare un po' di roba ma ancora devono finire di piovere o no mi sa che dovrebbero di piovere sì ma stanno piovendo dentro stanno piovere sì no vabbè il fatto che stanno a piovere dentro non è un problema anche perché comunque ragazzi allora a parte tutto vi faccio vedere un attimino come abbiamo allestito un attimino il nostro supermarket allora qui abbiamo una due tre casse qui all'ingresso più una automatica mentre qui abbiamo un po' di scaffali un po' di frigo un po' di com'è che si chiamano questi qua grossi oddio mi sono dimenticato il freezer il baule grande che ti ci posso mettere pure a te dentro ah sì e il congelatore sì vabbè il congelatore non mi veniva il termine esatto e quindi e quindi ragazzi ci siamo sistemati un attimino in questo modo ma ma l'unica cosa ragazzi che abbiamo messo anche è quello per l'ortofrutta quindi un pochettino di di banconi per ortofrutta e un po' di cose in più anche perché se non vado errato mi sa che Andrea mi diceva l'altro giorno che avevano rilasciato un aggiornamento che include un po' di cosucce in più che poi queste cose in più se ti ricordi tu Andrea magari fai un po' l'elenco eh sì vabbè in realtà le puoi far vedere vieni qua si vergogna il ragazzo si vergogna no 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 è che molte cose non me le ricordo ok allora vediamo un po' dov'è che sei al pc ah ok sì allora innanzitutto ragazzi qui praticamente Andrea ha sbloccato tutto ha sbloccato tutto perché comunque come detto ragazzi da un bel po' di tempo che ci giochiamo e abbiamo naturalmente un botto di soldi non che noi ragazzi abbiamo citato perché onestamente citare a me non piace abbiamo giocato per un tot di mesi da quando è uscito e così ci siamo fatti un bel po' di soldi e anche abbiamo sbloccato praticamente tutto allora quello che c'è la live perché ci sono le live che testimoniano appunto ci sono anche le live che testimoniano anche perché comunque ce le ho salvate tutte le dovrò solamente caricare un attimino su su youtube comunque detto questo a ridagliela ma scusi buon uomo ma perché mi sta frustando come se non ci fosse un domani ma mi scusi ho cambiato il colore al negozio dove sei dove sei bruttani ma pedente beh sono entrato nella pensilina mi scusi buon uomo vada via infilati quella scopa nel cu perfetto defecazioniamo ha cambiato colore non so perché l'abbiamo chiamato così ma va bene perché è bello va bene comunque ma che facciamo aiutiamo questi schiavi o ma guarda per me possiamo anche iniziare a mettere un po' di roba dentro agli scaffali allora sono molto convinto che facciano tutto loro ah ok no vabbè però tu adesso comunque li hai settati su su stoccaggio meglio se li leviamo se leviamo questa roba da qua no no appunto appunto facciamo finire un attimino loro ci bastano gli scaffali no si ma vedi che ci stanno oddio santo ma veramente non ci bastano eh no metti gli scaffali da questo lato io li continuo a mettere di qua allora un attimo solo dov'è che sono scaffale frigo oh ah ecco si è perso gli scaffali la ridagliela che sbaglio sempre allora perché di fatti questa è una pecca del gioco che eh sì ma infatti perché tutti gli altri è tasto destro sì allora ragazzi stiamo mettendo un pochettino di di scaffali anche su questi lati perché ci abbiamo veramente così tanta roba non so se sta ancora comprando robe Andrea no 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 basta 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 ah no ok no perché pensavo che ti stavi riempiendo ancora di roba che cosa li stai mettendo da quest'altro lato gli scaffali e tu non ti sta preoccupando lascia fare fidati di me eh però qua non lasci spazio ah giusto mannaggia la miseria si si va bene va bene va bene no l'unico peccato è che li hai messi un po' un po' troppo avanti se no potevamo metterci vabbè no possiamo farlo ugualmente alla fine ci mettiamo una fila avanti se ti sposti eh sì sì no vabbè la fila ecco perché io comunque avevo fatto quella fila e poi dopo mettere anche gli altri davanti esatto bravo in questo modo aspetta aspetta lo sposto io stai tranquillo che cosa sposti scusa dobbiamo lasciare un pochettino di passaggio ah ok sì no vabbè perché stava ancora quello dietro capito no 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 ok ok comunque se vuoi fare tu questo impazzimento di mettere tutto sì 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 la faccio io vai tranquillo perfetto io do un attimo un'occhiata agli schiavi qua a che punto no vabbè dai su non li chiamare schiavi poveretti stanno a lavorare per te non hai ragione dai ah vabbè però hanno finito eh vabbè bravi gli schiavetti gli schiavetti bravi gli schiavetti vabbè basta va ne sono rotto i maroni no vabbè non è neanche per quello è che tanto questo è tutto quello che noi compriamo sì sì no vabbè il fatto di guardarlo sì allora aspetta stoccaggio cassieri rifornimento vai tutti e dieci a rifornire sì se da vedere l'unica cosa se mettono i prodotti nuovi vabbè che tanto pure che sì sì no qualcosina di nuovo lo prendono i prezzi lasciamo quelli che stanno perché c'è troppa roba sì sì esatto bravo perfetto allora sono tutti e dieci sì tutti e dieci che stanno a lavorare come pazzi sai che cosa io volevo mettere un attimino anche ripiano prodotti qui se a tetti va bene e come no magari su questo lato così magari per chi ma dove cavolo mi è passato quell'uomo ridagliela eh mo aspetta stanno appassati tutti sai che cosa anche per poter riempire un attimino questi spazi vuoti e qui magari possiamo lasciare aperto sì che ne dici sì eh magari non mi ricordo se era l'altro gioco o questo quale ci possiamo mettere non c'è lo scaffaletto piccolo qua ah no sul supermarket simulator eh sì no mi sembra che qui i piccoli sì tipo di mi sembra che dovrebbe essere tipo di scaffale o una roba del genere ora non mi ricordo qual è tipo di scaffale no 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 è quello che ho messo sotto per la frutta e allora mi sembra che quello là un pochettino più piccolo mi sa che non ce n'è eh no 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 non c'è vabbè non fa niente ok ok no buono vabbè tanto comunque ragazzi stiamo un attimino ultimando un pochettino di cose eh sì anche perché comunque voglio dire no io è veramente da un bel po' che non ci rigioco quindi io dovevo farci appunto un episodio in in singolo eh solo che poi dopo alla fine ci siamo organizzati e ci siamo convinti di poter portare almeno un video uno o due video perché che non so ancora ragazzi se potrebbe interessare o meno a qualcuno di voi e è così ci siamo organizzati appunto stasera per per farvi questo video che poi come detto posso pure registrare un paio di ore un'ora due ore quello che sia però comunque credo che dovrebbe essere suddiviso in più e più parti perché fare praticamente mezz'ora di video per tutto questo popò di roba che abbiamo mi sembra anche una cosa esatto bravo quindi non mi non mi sembra una cosa tanto buona da da vedere però comunque va bene lo stesso però sai che non mi sembra che le cose nuove siano state prese allora perché questi dementi stanno tutti qua ma dove stanno scusa dove sono tutti qua tutti qua e no allora li devi rimettere di no scusa aspetta rifornisci aspetta uno si è avviato no no e no ma sai perché perché non sanno dove la devono mettere la roba e ma scusa ma se mo gli ho messo praticamente i nuovi scaffali è la cosa buona diciamo dell'altro supermarket che sullo scaffale ti lasciava il prezzo e il prodotto così loro potevano prenderlo da dentro e riportarlo qua è giusto è giusto sì mi ricordo questa cosa qui sì invece di qua lo devi mettere tu almeno un prodotto e allora facciamo così aspetta prendiamoci un prodotto poi loro portano tutto esatto allora la roba nuova allora mettiamo un po' di frutta vieni con me allora prendo pure io qualche frutto ma come tipo di prodotto ah ok eh sì la frutta va su questi di qua sì sì vediamo un po' se adesso mi sembra di no no non vanno eh no perché l'abbiamo messo noi eh appunto però almeno qualche cioè scusa abbiamo messo qualche aspetta nel senso l'abbiamo messo noi tutto abbiamo riempito lo scaffale capito ok cioè io quindi mo ho messo praticamente un solo prodotto di una cosa e sì infatti mo si vanno a prendere quello che ho messo io perché ho messo solamente un paio di prodotti eh mi metti cinque tizi allo stoccaggio cinque tizi eh no mo sono tornato in India eh sì per forza perché mo ce n'è uno sì perché è fin eh no vabbè a parte quello ma perché è finito mi levi ok ok vai 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 tranquillo è perché ho comprato un altro po' di frutta ah ok allora aspetta fammi fare così se io mo prendo uno di riso e lo piazzo qua poi uno di yogurt che dovrebbe andare in frigo sì ok eh vabbè però così ragazzi secondo me dovrebbe essere una cosa alquanto difficile cioè non difficile praticamente è una rottura di marones eh esatto cioè perché tu comunque prendi una cosa la devi mettere tu poi ne devi prendere praticamente un'altra la devi lasciare devi fare devi dire cioè non è che allora l'unica cosa buona diciamo se funziona è che tu prendi il prodotto ne metti uno e lo lasci lo lasci qua proprio per terra ah sì teoricamente loro dovrebbero andare e prendere cioè per dirti io metto marmellate qua ne ho messi due se io lascio lo scatolone qua qualche pingopallino che è libero dovrebbe andare sì dovrebbe prendersi lo scatolone sì sì però c'è qualche pingopallo sì a me funziona a me funziona fai giusto come hai detto tu Andrea li posso lasciare per terra sì 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 li puoi lasciare a terra sì perché uno libero io mi ho lasciato uno a terra e prima uno ma scusa ma che cacchio no non funziona no non va non funziona no 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 ma dovrebbe prenderli eh sì ma dovrebbe prenderli perché mi sembra che dovrebbe essere uno scatolone per ogni tipo di prodotto quindi non devono essere due di tutti e due lo stesso prodotto non ho capito allora visto e considerato che io adesso in mano come scatolone avevo le carote e le carote c'erano anche nello stoccaggio quindi io praticamente ho messo uno di carote dentro lo scaffale e la tipa se n'è venuto con un cartone già pieno di carote quindi non ha preso quello che ho preso io da terra no 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 perché c'è alcuna roba che io ho ricomprato ecco e quindi allora sono praticamente una copia di però no no se lo prendono se lo prendono quindi allora se io mi lascio la nutella qui dovrebbe venire qualche pingo pallino a pigliarsela perché io le sto lasciando tutte qua sì 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 esatto sì funziona funziona ma scusa ma dove cacchio ma no no Andre non funziona perché io mi ho fatto uno con la nutella uno con il sapone ho lasciato praticamente il coso a terra ma se lo so ripro eh ma tanto guarda eh sì ma arriva arriva l'altro ma va fan club va eh sì perché c'è quello no va bene no perché sapete che cosa ragazzi perché c'è praticamente quello per lo stoccaggio e quello per il rifornimento esatto ma che te possa venire da diarrea cronaca no 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 lascia fa per favore ma che te possa che ho dato abbastanza addirittura è dato giù abbastanza con la diarrea cronaca oddio sta veramente basta basta quella oggi guarda allora mi serve un altro scaffalo per la frutta a ridagliala ancora scaffali ti servono oddio e che ti devo fare oh mi raccomando metti pure le casse per per la frutta a meno così facciamo pure qualche cassa da là magari pure qualche cassa automatica se funziona eh madonna vicino alla frutta e vabbè perché scusa secondo te quando tu vai a fare la spesa trovi la cassa automatica cioè la cassa quello che ti fa lo scontrino allora da me la cassa automatica non esiste neanche vabbè da noi invece quando hai praticamente non lo so devi prendere della frutta vabbè ma la bilancia ah non è la bilancia quella no quella è la la cassa automatica e io pensavo che fosse cioè che facesse tutti e due no ok no no come come non detto come non detto apposto apposto va bene ma abbiamo messo tutti i prodotti ma neanche lontanamente no perché ci stanno veramente un sacco di cose abbiamo comprato veramente una marrea di roba abbiamo comprato veramente ma che so questi libri ma come il libro abc ma mi scusi c'è pure i libri certo ma scusate ma abbiamo pure i libri abcdfghilmnltt non ne ho bellissimo i libri dove li hai messi i libri li ho messi qua appena entri qua sotto qui sopra 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 ah ok e non volevo fa cosa ti parlo così da parte vicino alle casse hai visto di solito queste cose non ci ho pensato scusami no no quello è il problema vabbè dai li metto da da quest'altra parte perché sapete che vabbè comunque sapete che cosa ragazzi secondo me secondo me si poteva fare qualche cosa di non lo so magari qualche cosa di diviso rispetto a qualche qualche altra cosa giusto eh sì magari dividerlo in prodotti esatto magari non lo so la pasta con la pasta eh sì caffè con il caffè e di fatto io i prodotti per il cesso sto facendo così dove li stai mettendo i prodotti ah no questo qua è insetticida sotto sotto vicino alla frutta ok sì sì li ho trovati sì 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 ma non è propriamente no vabbè ma comunque vanno sì però è l'insetticida andoro posso mettere l'insetticida eh va bene là va bene vicino alla vicino alle cose per il bagno bene ottimo perfetto ma io vado ti pulisci il culo con l'insetticida sì guarda tabelle dei tabelle di detersivi i detersivi pure per il bagno li mettiamo eh beh no è certo candeggina pure ah no vabbè occhio no no occhio occhio e se no dove metto eh no vabbè che ne so io ma te lo sei riportato tu il pacco no se l'è venuto a prendere il tuo amico e mo se lo e mo se lo riporta ah ok ok perossido di perossido di idrogeno ma che è sta roba ma ma che ha mancatato pure aspetta ma il perossido di di coso là lo metto con quelli del bagno e non è proprio appropriato però sta pur mastrolindo qua vabbè shampoo all'uovo e roba per il bagno shampoo no shampoo l'ho messi qua ah ok perfetto dove cazzo sta ah vabbè dai li metto sotto qui dai eh sì dai sì sì vabbè il perossido di idrogeno all'arma chimica là non so nemmeno io vabbè vabbè ragazzi ormai è fatta c'è un prodotto che si chiama gel da bagno gel da bagno bene per forza di cose sì vabbè va avvicinato cioè al bagno al bagno che mettiamo pure i sacchetti di patate dove è il bagno buon uomo eh no scusi signora che se leva io no no ho detto signora ah scusa ho sentito male sapone al mango roba da bagno c'è roba da bagno sì ahia la mia madonna bottiglie di soda vabbè la soda penso che va nel frigo sì eh beh sì sì ehm aspetta l'altra roba per che so qualche roba è vino olio d'oliva vino bene ottimo vino rosato moto piazza qua stava vedi tu cioè non tu il nostro mitico green beans confezione cola no aspetta la confezione cola mi sa che va qua sì sì ci siamo finiti gli scaffali per per cosa per il cesso bene vabbè dai comprali gli altri non ti fa problemi no vabbè ci basta quello capsule premium addirittura ci sta ancora qualche cosa per la frutta perché c'è ancora un po' di sì eh sì eh vabbè questo qua me l'ho messo io scusate vabbè eh vabbè ecco il problema ando comunque ci diamo una mano a vicenda dai le patate vabbè le patate c'è un miele di jojoba jojoba dovrebbe essere io ma che cazzo vabbè integratori di zinco sì eh quello pure è tutta farmacia mettilo tutto da una parte eh vabbè ma la farmacia non la famo e che ne so dove tu eh allora aspetta la farmacia guarda un po' Andrea la faccio qua ci sei da me è sempre nell'angolo dove sei sono qui sto a saltarla come un malato ma non mi vede sono qui qui non vedo ah ok e che ci vuoi mettere qui è roba di farmacia ah sì 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 va bene va bene lasciamo là tutta quanta la roba di farmacia va benissimo infatti pure io ragazzi se avete bisogno dell'assativo mi raccomando venitelo a comprare qui vi faccio un pochettino di sconto poco poco però perché questo ci costa una lira appunto scusate scusa Andrea ma possiamo togliere un attimino quelli là che mi vanno allo stoccaggio come perché perché c'è un via vai di gente e non si staccavino a ceppa ah ma poi non ti mettono ah già sì 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 è vero è vero è vero è vero scusa hamburger cheese script vabbè le metto no queste qua mi sa che vanno in frigo sì no non è vero ah no aspetta vanno in freezer vabbè in questi qua bagno non c'è niente questa cosa che cos'è disinfettante questo ce l'abbiamo a portare ah c'è altra roba da bagno madonna mia che casino eh appunto abbiamo preso secondo me troppa roba no disinfettante e farmacia esatto vabbè però dipende pure se è disinfettante per il no vabbè sì che esiste pure no no è disinfettante orale ah disinfettante orale ok perfetto c'è la pipetta ah zucchero di vetro non lo mettiamo sto zucchero di vetro zucchero di vetro sì sarà buonissimo ma c'è scritto così sul cartone ma che ti devo dire non lo mettiamo con con la farmacia che ne so ma no metterò quello zucchero normale eh vabbè ma mo lo zucchero normale è a rosta così che ne so appunto ecco perché abbiamo fatto le cose un pochettino da un macello abbiamo fatto praticamente un macello ragazzi ammorbidente melatonina che roba è sta melatonina camomilla camomilla veramente camomilla ti fa addormentare veramente camomilla ma che va con con roba da farmacia no ah no ok perfetto no perché mo pensavo che stava sbagliato ma sono tisane ah ok no 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 ok ok i libri allora i libri vi sei considerato che io ho sbagliato ma è una cosa ammetti ho una perplessità dica che è successo scusami ho una perplessità perché ci sono delle vitamine dove insieme al pepe al ketchup e che ne so perché io ho visto non ho neanche visto che erano vitamine non ho letto sulla scatola mi dispiace buon uomo mi scusi non ti preoccupare mi dispiacque mi dispiacque non mi ricensi non ti preoccupare ti posso chiedere una cortesia 10 euro dica vai alla tabella dove si accatta la roba eh sì che vuoi comprare tutti i libri tutti i libri eh sì eh ma dove li hai trovati tu in eh dovrebbe starci scritto libri no carne conserve sì no ma sai che ci sono scritto libri caro allora prodotti agricoli farmacia bevande ah eccoli qua pacchetto libri eh ma quale ah vabbè c'è uno e due tutti 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 il primo e il secondo tutti e due ah e quanto vabbè che tanto una sola basta avanza sì 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 no dico dico un solo cartone basta avanza nel senso che invece di prendere più cartoni di uno faccio uno solo di ah ok no 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 ok ok perfetto perfetto allora ecco qua che vanno a pigliare la roba ma la vanno a stoccare antistaminico farmacia allora io ma mi sistemo un attimino la frutta tanto qua comunque posto per frutta c'è giusto sì che poi scusa sopra qui che cavolo è che va dove sopra qui qui dove sto io dove è la frutta i bancuni quelli là ovali sopra che cosa va sopra ci puoi mettere tutti i prodotti che vuoi tranne la frutta ah ok perfetto come i prodotti cioè quindi pure le scatole di cereali sì ah ok 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 non lo sapevo pensavo che fosse una una presa in giro che ne so no 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 perché ne so tante di quelle volte ma mi sta ad inculare perché non ci ho giocato per mesi sarebbe molto bello ma vabbè perché scusi buon uomo lasci fare e le angurie pure lì vanno dove è la frutta eh sì eh sì ma le angurie ci stanno già ma c'è già ma c'è pure un altro pacco di angurie che ti devo dire eh no no e lascialo là lo lascio nello stoccaggio allora eh sì sì quando poi sono finite queste angurie qua ah ok 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 perfetto eh sì sennò sì 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 sennò fanno fanno i danni le banane hai visto se c'erano ehm ah madonna mia vabbè ma porto carte igieniche eh le banane mi sembra di no 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 già le hai prese le banane fermo no ecco non mi ha detto così eh appunto le porto io le banane non si preoccupi buon uomo eh ma io lo so che a te piacciono no a quella piacciono a te giovane no 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 lascia fare lascia fare ma scusa ma io voglio ma io voglio capire dove cavolo è che stanno le altre cose per il bagno è finito tutto ma sei sicuro eh sì c'è quindi c'è un altro poco di carta igienica scusami perché la carta igienica non manca mai è la carta igienica